Sentite il pranzo mio, riso e piselli, allesso dei vaccini e gallinaccio, garufolato, trippa, stufadaccio e uno spito dei sarcici e fegatelli. Poi fritto dei carciopoli e granelli, certi gnocchi da faccia e il peccataccio, una pizza ricresciuta dello spaccio e una gredorce dei cignali uccelli. C'è furno, peperoni sottaceto, salame, mortadella e caciofiore, vino de tutto pasto e vindo il vieto. E poi risolio del perfetto amore, caffè e ciammelle e tolla al satareto, certe radici da slargare il cuore. Beh, che importo del trattore? Con il vetturino che mangia con noi manca un quartino per uomo. E che c'è voi?